Allerta Meteorossa e chiusura delle scuole. Chi e cosa decide? A chiarirlo la protezione civile regionale che ha spiegato quali procedure vengono seguite quando le condizioni del maltempo sono le peggiori. Lunedì scorso, ad esempio, mentre il sindaco del capoluogo teneve i plessi aperti, in quasi tutta la provincia messinese le scuole erano chiuse. La protezione civile oggi ha spiegato che non esiste un diretto rapporto tra l'emanazione dell'avviso di protezione civile con allerta rossa e la conseguente chiusura delle attività didattiche. Gli avvisi hanno sempre valore di previsione e non di certezza di accadimento e la chiusura delle scuole deve essere determinata esclusivamente sulla base dell'esame del rischio esistente sul territorio. Dovrà essere in pratica valutato se i plessi scolastici sono ubicati o se la viabilità che dovranno percorrere i fruituori ricade su aree a rischio idrogeologico o idraulico. La valutazione è in capo alle amministrazioni locali e più precisamente ai sindaci in qualità di autorità locali di protezione civile come la manutenzione, il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque spesso causa di forti disagi. Le procedure devono essere contenute nei piani di protezione civile locali obbligatori per legge.